Il Chesterton Gala è una serata di musica e di intrattenimento interamente organizzata da studenti, famiglie, professori e volontari realizzata con lo scopo di mostrare a quante più persone possibile la bellezza che i ragazzi respirano all'interno della nostra scuola approfittandone anche per raccogliere fondi per sostenerla. Vi invitiamo a partecipare a questa serata unica e vi ringraziamo del vostro aiuto e per averci sostenuto in quest'opera.